Oggi vorrei partire direttamente da questa schermata qua perché ho messo qualcosina in più, dato che si parla di analisi della gara, della partita e abbiamo già fatto le pagelle, abbiamo già fatto la pagella anche di Allegri nel video uscito ieri sera, quindi andatevi a vedere l'altro video se volete sapere quella che è stata la mia opinione sulla prestazione di Massimiliano Allegri, su come ha preparato la partita. Oggi invece analizziamo quella che è stata effettivamente la partita con anche qualche immagine presa direttamente dal canale YouTube di Dazon, quindi andiamo avanti, ragazzi ovviamente vi chiedo di lasciare un like a questo video e qualcuno ormai già lo riconoscerà, altri invece mi hanno chiesto da dove prendo queste informazioni, questo report viene generato da Soccerment, trovate il link della piattaforma qui sotto in descrizione, se volete poi questo report anche voi da condividere sui vostri social o lo condiviso già sul mio profilo Twitter oppure banalmente scrivete a Soccerment su Instagram o Twitter e vi passano questo match report di analisi molto molto interessante che andiamo a sviscerare. E quindi finalmente una Juve aggressiva e con voglia di segnare un gol in più solo per il gusto di farlo, approccio mentale diverso che deve diventare una costante da qui al termine della stagione. Analizziamo Juve Empoli in questo thread grazie appunto a Soccerment al suo match report, link in descrizione perché Soccerment è collegato anche a XSeed, il parastinco intelligente di cui vi ho parlato la settimana scorsa. Voglio subito dire una cosa, è vero che è stata una Juve aggressiva, è vero che è stata una bella partita, una vittoria larga, ma qui nessuno si è illuso. O almeno se devo esultare per il 4-0 della Juventus in un momento così complicato, sì lo faccio, giuisco fino alla morte. Perché sono contentissimo, perché questo è quello che vorrei vedere sempre da parte della mia squadra del cuore, è che in questa stagione invece si è visto decisamente troppo poco, quasi mai. Quindi sì, esulto, quindi sì, forse mi esalto per questa singola partita, ma per questa singola partita. Finisce lì. Io ho una FIFA terrificante per martedì e non cambia assolutamente il mio giudizio generale della stagione, che è una stagione negativa, negativissima. Però, cosa devo dire? Che è andata male anche Juve Empoli perché la stagione sta andando male, no? Non sarei onesto intellettualmente, Juve Empoli ci sono state delle bellissime cose. Era solo l'Empoli, va bene, d'accordo, è una singola partita in una stagione terrificante, ancora d'accordo. Però questa partita la Juventus ha fatto la Juventus e lo vedremo insieme. Quindi credo che sia giusto riconoscere dei piccoli passi in avanti, che è esattamente come vi dicevo con Bologna e Maccabi, all'andata, senza illudersi che i problemi siano risolti. Perché soltanto un matto potrebbe pensare che dopo un 4-0 all'Empoli abbiamo finito tutto, abbiamo risolto tutto. Non è vero, non è così. Siamo in una posizione di classifica terrificante e c'è da vergognarsi per quella che è stata la stagione fino adesso. Ma allo stesso tempo c'è da essere felice perché quando la tua squadra ha il cuore, vince 4-0, può farne anche 5-6. Non vedo perché essere tristi il giorno dopo. Poi il giorno dopo ancora si ricomincia a pensare al complessivo della stagione, che secondo me è irrecuperabile. Però per questa singola partita sono contento. E finisce lì. Cioè è logico che sia così. Se non posso essere contento, non è che quando vengo 4-0 io non ho idea di quando si possa essere contenti. Tiri in porta, è vero che l'Empoli ha tirato ben 12 volte verso lo specchio della porta della Juve, però dei pericoli veri e propri dalle parti di Scesni ce ne sono stati pochi. Infatti guardate il grafico dei tiri, no? Le occasioni sono state tutte velleitarie dell'Empoli. Insomma, da una parte all'altra non c'è stato chissà che cosa. Un po' nel primo tempo, un po' nel secondo, ma nessun tiro impattante. Invece la Juve, guardate ancora il grafico, rischia di segnare ben più di 4 gol. Gli expected goal sono di 3-60. Praticamente abbiamo fatto 4 gol. Se ne potevano fare probabilmente anche di più. L'Empoli non arriva neanche a 1 come expected goal. Però c'è un'occasione che poi vedremo dopo, che abbiamo regalato noi, nella quale secondo me l'Empoli comunque poteva trovare il vantaggio. E secondo me nel complessivo un gol l'Empoli non meritava. Però la Juve forse è anche qualcosa di più. Juve che rinuncia al solito possesso palla difensivo. Infatti non si è fatta girare tanto la palla lì dietro, come si è fatto tante volte in questa stagione. La partita ad Ogasandori veramente è il simbolo, l'emblema di quello schifo di possesso palla difensivo senza mai cercare di andare in avanti. Invece abbiamo lasciato molto, molto il palleggio a quegli altri. Tenetela voi, non c'è problema. Noi facciamo un break, facciamo una chiusura, un recupero palla, poi andiamo in avanti di prima o con un cambio di gioco. E infatti si è riusciti tante volte a presentarci nella metà campo avversaria e ci sono stati tanti cross da parte della Juve che stanno inventando una costante e Costi ci sta crossando sempre, sempre di più. Quindi Juve che secondo me ha interpretato bene la partita per quelle che sono le caratteristiche dei calciatori. Una Juve aggressiva, una Juve con due giocatori, tre giocatori anche con Locatelli a centro campo in grado di recuperare quei palloni e di andare in avanti. Perché questo deve fare questa Juventus qui. Andamento Juventus-Empoli. Juve che trova subito il gol. Il brutto è che dopo 20 minuti molla, molla completamente il pressing e decide di abbassarsi. Infatti vedete che viene fuori un po' l'Empoli, il verde, cioè il momento più grande dell'Empoli. Finché la Juve poi decide di alzarsi gradualmente, invece nel secondo tempo siamo un diesel perché appunto i primi 15 minuti bene del primo tempo. Dal ventesimo in poi lasciamo un po' troppo Empoli, poi decidiamo di tornare in partita ma senza fare chissà che cosa. Invece nel secondo tempo partiamo pianino, riusciamo a trovare anche un altro gol. Poi quando troviamo il 3-0 loro muoiono, muoiono completamente. E allora noi decidiamo di spingere sull'acceleratore sentendo l'odore del sangue. E facciamo anche il 4-0, poteva essere anche di più. Guardate poi il finale. Il finale della Juve è stato assolutamente increscendo. Proprio di tanto. Proprio perché la Juve aveva capito che la partita l'aveva messa in cassaforte, l'aveva vinta e quindi poteva divertirsi. Ed è un concetto da non sottovalutare. Finalizzazione. Gli XG parlano chiaro, gli XG cumulativi. Cioè, guardate qua. La Juve nel primo tempo crea e spreca qualche occasione di troppo, con Moise Ken, con McKennie. Ma nel secondo tempo poi ci trasformiamo. Il 3-0, meritatissimo, taglia completamente le gambe all'Empoli, esca dalla partita sia a livello fisico che mentale. E noi appunto, cioè la parola chiave ieri sera è stata divertirsi perché dava veramente l'impressione ai Juventus di divertirsi. Secondo me il fattore stadio non era da sottovalutare. Ieri sera era uno stadio molto pieno, sembrava un'atmosfera anche abbastanza di festa. Non dico ai tempi del primo Juventus Stadium perché non è sicuramente così, dato che mancano troppe cose per ricreare quell'atmosfera lì, però l'atmosfera di festa e sembrava quasi che i tifosi chiedessero alla Juventus qualcosa in più e che la Juventus fosse davvero contenta di questa cosa. Segno che quest'anno in casa si va abbastanza bene, in trasferta invece siamo a livelli terrificanti. Infatti ho una FIFA blu, ragazzi, per martedì. Martedì temo veramente di tornare a casa con un sacco di palloni nel sacco. Però vediamo, spero ovviamente di sbagliarmi, però la Juve poteva veramente dilagare in questa singola partita. Perché quello lì è il problema, cioè le persone non sono in grado di distinguere la singola partita con l'andamento generale della stagione. Non è che se uno parla bene di una singola partita è contento di tutta la stagione. Si può essere contenti del 4-0 della singola partita e non essere contenti di tutto il resto della stagione. Questa cosa va veramente compresa. E se non si comprende questa cosa qui, ragazzi, non si possono fare l'analisi delle singole partite. Bisogna dire che sembra che va tutto male. Ma non è così, non è così. Modulo, ancora 3-5-2, abbastanza chiaro, anche in fase di non possesso. Questa è stata la grande novità della Juventus. McKennie e Rabiolarghi, tutti e due, a dare una mano a Costic e Quadrado sugli esterni. Vlaovic come punta di raccordo ha fatto una fatica terrificante, infatti ha fatto soltanto 8 passaggi nel totale, non mi è piaciuto. Locatelli invece è molto presente in costruzione. Il blocco dei tre dietro, compatto, abbastanza stretto. Guardate Danilo quanto è stato stretto. E finalmente Quadrado e Costic, insieme a McKennie e Rabiou, insomma, si attacca praticamente con quattro esterni, se vogliamo. E bene, vuol dire che c'è presenza. Iniziamo a ragionare un po' su quelle che sono state le singole occasioni. Questa è l'1-0 di Ken. In palla deliziosa, secondo me, di Costic è un ottimo movimento di Moise Ken alle spalle di De Winter. Abbastanza addormentato. Grave disattenzione appunto di De Winter e di Ruperto. Cioè, guardate lì dove passa. Cioè, è incredibile il taglio che fa Ken. Passa in mezzo ai due centrali dell'Empoli. E loro, le belle statuine, quella palla lì finisce lì. Ken la mette in porta. Proprio l'Empoli qua fa una bruttezza difensiva incredibile. Gol per la Juve. Nasce dall'esterno sinistro. E sta iniziando a diventare una costante. Ieri sera Costic veramente ha messo un fantastiliardo di palle all'interno dell'area di rigore. Si poteva fare anche decisamente di più. C'è anche un gol in fuorigioco di Moise Ken ancora, ancora, su assist di Costic. Sta nascendo un asse interessante tra Ken e Costic. Occasioni a destra. E questa che vi dicevo prima. Questa è l'occasione più grande per l'Empoli. Guardate Quadrado. Quadrado lì è spalle alla porta avversaria. Ma non sta minimamente pensando a un modo di uscire da questa situazione. L'unica idea che ha Quadrado in quel frangente lì è prendere fallo. E si butta a terra. Senza però l'irregolarità, mi pare, di Bandinelli. Che recupera palla. La passa a destra. Guardate a destra. A destra lì da solo. Sulla lunetta dell'area. Non c'è nessuno che lo sta marcando. Perché la palla è nostra. Quadrado riesce a perderla. L'Empoli a servire destro. Che per fortuna non è freddo. E a tu per tu con Szczesny. Szczesny riesce a cavarsela. Queste sono disattenzioni gravi. Gravi. Perché qua l'Empoli va solo 1-1. Diventa un'altra partita. E quello che vi dicevo prima. Dal ventesimo fino alla fine del primo tempo. La Juventus ha deciso di mollare. E questo si traduce in un Empoli. Che se qua trova l'1-1 non c'è niente da dire. Diventa un'altra partita. Quindi sono proprio delle piccole cose che non riesco a capire perché. Perché? Per quale motivo decidiamo poi a un certo punto? Basta. Ma no. Ma basta niente. Il sull'1-0 al 31esimo. Ma dai. Occasione Juve. Forse un tocco in più di Kostic che toglie il tempo per la giocata migliore. La Juve che però ragazzi qua la Juve va in superioretà numerica grazie alla ripartenza. Qua siamo in 1-2-3-4-5 contro 4. Non riusciamo a servire con i tempi giusti. Guardate lì. C'è Vlaovic e McKennie praticamente da soli all'interno dell'area o poco più fuori. Quadrado che arriva. McKennie che si porta via due uomini. Facciamo quel tocchettino in più. Palla che finisce a Vlaovic. Poi riaggressione positiva della Juventus in alto. Recuperiamo ancora il pallone. Quadrado entro per McKennie. Un'altra dormita difensiva dell'Empoli. McKennie riesce a tirare. Resce a beccare il portiere. C'era una cosa sola da non dover beccare. Cioè il portiere avversario riesce a beccare esattamente lui. Qua ci mangiamo veramente un gol clamoroso in due occasioni. In un'occasione abbiamo avuto due occasioni. Abbiamo dormito. Si poteva buttare dentro clamorosamente e andare sul 2-0. Alla fine del primo tempo ce ne sono state altre. È stato un colpo di testa di Ken. Un'altra giocata di Ken. Ci poteva veramente finire il primo tempo sul 2-0 anche a basso ritmo. Perché comunque il primo tempo non è stato chissà che cosa. Però le occasioni ci sono state. Poi andiamo direttamente sul finale. Lasciamo stare un po' quello che c'è stato nel mezzo. Perché il 2-3-0, quindi sia McKennie che Rabiot, nascono entrambi su calcio d'angolo. L'altro giorno vi ho portato sul canale un video che si chiamava Segniamo poco, facciamo pochi gol. E andavamo a analizzare tutti i gol che erano stati fatti dalle Juventus fino a questo momento in stagione. E vi dicevo che su calcio d'angolo avevamo delle caratteristiche che potevano diventare pericolose. E ieri sera due gol direttamente da calcio d'angolo. E sono il terzo e il quarto gol stagionale della Juve d'angolo diretto. Ma non solo perché comunque in alcune occasioni un calcio d'angolo corto, battuto corto si era trasformato in gol. Quindi dovrebbe essere il sesto gol, quinto e sesto gol da calcio d'angolo diretto o da sviluppi di calcio d'angolo. È un'opzione valida. È un'opzione valida secondo me da sfruttare con più frequenza anche perché Rabiot è il secondo gol stagionale sul calcio d'angolo il che significa che qualcosina lì probabilmente inizia a funzionare anche dalle parti di Adriano. Quindi dai, bene, bisogna insistere su questa cosa. Rimane un problema. Su azione segniamo ancora troppo poco. Ancora troppo poco. Però per fortuna i gol su calcio da fermo valgono come quelli su azione quindi iniziamo a massimizzare questi calci d'angolo nei quali siamo più pericolosi rispetto alle azioni singole. Cerchiamo di buttarla sotto questo punto di vista. Qua occasione Juve, qua veramente mi sono disperato l'avrete visto nella live reaction perché palla dalla sinistra di Iling tratto bene in partita con la voglia di andare in avanti. Locatelli di prima. Locatelli ha giocato quasi tutta di prima in questa partita. Uno, due tocchi al massimo. Anche cambi campo interessanti, anche complicati. Di prima intenzione che cerca Miretti. Slalom gigante di Fabio dentro l'area di rigore. Freddezza incredibile. Tira anche bene nell'area quasi piccola. Vicario fa un miracolo. E poteva essere veramente una bella azione della Juventus. in velocità. Peccato perché il gol di Miretti sarebbe stato molto bello con Iling che sarebbe stato protagonista subito dopo il suo ingresso all'esordio in Serie A. Peccato, mi è dispiaciuto tantissimo. Questa è l'occasione che mi dispiace di più in assoluto. Poi ce ne sono state altre. Colpo di testa di Milik. Milik che tira col sinistro. Però questa mi è proprio dispiaciuta. E poi c'è il 4-0 di Rabiot. L'azione viene sviluppata ancora una volta dall'esterno. Guardate Danilo. Dai e vai con Locatelli. Locatelli due tocchi. Destro e sinistro. Palla in verticale a Danilo nello spazio. Qua l'Empoli proprio già sotto la doccia. Buonanotte suonatori. Infatti non è tanto il 4-0 della Juventus. Non è tanto questa singola azione costruita lì sull'esterno. La cosa bella. Guardate il timer. È il 93. Su 5 di recupero. La Juventus è 3-0. Noi siamo 11 giocatori. Dentro la metà campo avversaria. Con la voglia di andare in avanti a segnare il gol. Non è tanto il gol del 4-0. Perché l'Empoli qui era morto. Ma la voglia della Juventus di fare una cosa che non aveva mai fatto. Non è sicuramente il test più importante prima del Benfica. L'Empoli. Con tutto il rispetto per l'Empoli. Ma non è l'Empoli. Anche se l'anno scorso ci ha battuto allo stadium. Io ero lì. Però è ovvio che inizierai eventualmente ad esaltarti per la Juve in generale. In seguito a un filotto di risultati importanti. Contro squadre importanti. Per dire se fai 3-4-0 col Benfica. Martedì è ovvio che inizi a dire o però. Allora vuoi vedere che adesso bisogna rimanere calmi con i piedi per terra. Ma portarsi a casa queste piccole cose che non si erano ancora viste fino a questo momento. Il che significa che la Juventus sta lavorando su delle micro cose proprio a livello mentale. Perché una roba del genere l'Empoli non l'avrebbe mai fatta. Mai. Avremmo addormentato la partita dietro con il passaggio dal centrale al centrale, centrale al terzino. E invece no. Adesso c'è questa voglia di andare e divertirsi. Perché si sentiva questo bisogno di fare una partita con un risultato rotondo. Dopo tanto, troppo tempo. E se lo sentivo io non immagino loro che ci lavorano tutti i giorni. Tra campo, palestra, rifinitura, partite. Quindi bene. Cioè secondo me bisogna semplicemente essere felici di questa cosa qui. Perché da qui passa lo step successivo nel lungo, nel lunghissimo. Però mantenendola questa mentalità. Che le partite le puoi chiudere, le puoi vincerle. Ma puoi anche fare delle robe del genere. Perché le caratteristiche per farle le hai. Quindi analisi della partita. Secondo me vittoria meritata, che poteva essere anche più larga. L'Empoli poteva benissimo fare un gol. C'è stata quella macro occasione di destra. Ce ne sono state tante altre meno importanti. Però secondo me allo stesso tempo le Juve 4 gol stanno stretti. Vicario ha fatto due o tre parate di livello. Noi abbiamo sbagliato due o tre palle e gol importanti per giocate. O semplicemente perché le abbiamo buttate fuori colpi di testa di Kennedy Milik. Buona partita, secondo me. Che però, ripeto, non deve buttare fumo negli occhi. Deve farci rimanere concentrati sul fatto che fino adesso la stagione è deludente. E martedì capiamo se siamo dentro o fuori dalla Champions, ribadisco. Secondo me martedì è molto complicata. E fai anche una brutta figura, secondo me. Secondo me martedì faremo una brutta figura. Però sarò il primo ad essere contento di sbagliarmi. Quindi testa al Benfica. Questi piccoli passi in avanti non vanno nascosti ma nemmeno esaltati. Non è che siamo fuori dalla crisi. Non è che adesso... Eh no. È una Juve in crisi. Chi ha fatto una bella partita contro l'Empoli. E che porta a casa delle piccole migliorie dal punto di vista mentale. Però permettetemelo. Perché nell'analisi della partita, nei dati, nelle statistiche, nelle occasioni. E quello che volete, ne parliamo sempre. Ma questa foto qui, questa cosa qui, questa roba qui, per me è il calcio. Perché in uno sport di squadra, se tu non ti metti davvero nell'ordine delle idee che sia una squadra, non si va da nessuna parte. Se non si riparte dalla consapevolezza di essere un gruppo unito, non si va da nessuna parte. E quindi questa foto qui è splendida. È magnifica. Soltanto il tempo ci dirà poi se questa foto potrà essere tirata fuori più avanti e dire Dio santo, quella partita lì con l'Empoli, vuoi vedere che è stata la svolta? Per me no. Per me la Juventus mantiene dei problemi, dei macro problemi. Ma dei piccoli passi in avanti sì. Ma al di là di tutto questo, questa roba qui invece te la devi portare a casa. Perché questa roba qui non la vedevi da troppo tempo. E ripartire da questo è molto importante. Al di là dei trofei che potrai alzare, dai risultati che potrai raggiungere. Ma questo serve. Questo serve nel calcio, uno sport di squadra. E io vi ricordo, no, non le pagelle del Torino, ma le pagelle dell'Empoli che sono già online sul canale YouTube. Quindi vi invito a andarvela a vedere. Un abbraccio ragazzi. Forza Juve.